ciao a tutti ecco un'altra puntata di lorenzo fra giacomo versus intelligenza artificiale e allora per esempio un genere che verrà secondo me molto inficiato sarà lipop adesso vi faccio sentire perché ok in questo caso uso un brano già già pronto c'è una base fatta da in questo caso da Holberg, Beats, Dagen e Nao Paulin spero l'avrei pronunciato giusto ho fatto generare un testo così al volo dall'intelligenza artificiale e adesso vi faccio ascoltare il risultato ma ok è improvvisato eh ok partiamo con il beat ok I got a stick on my neck feeling like a frack but I'm still on the track it has no need to check life's a puzzle got to find to connect every step forward and it's time to reflect stick on my neck stick on my neck e poi si va con un ritornello contenendo le parole lunghe un po' più meludiose ne prendo una a caso got the dreams in my heart pie you in a soul got the dreams in my heart pie me in a soul stick on my neck but I'm gonna fret gonna rise above in time to forget e avanti così ora è chiaro che magari uno si inventa uno stile no? c'è uno stile per fare il flow dell'hip hop però fondamentalmente ce ne sembra una cazzata ormai farlo per cui se avete delle cose da scrivere in rima fate fare una bella base o ve la fate in 5 minuti e è fatto un pezzo hip hop vincente Lorenzo Fra Giacomo ciao grazie a tutti grazie a tutti